Cari signori amici, sono mesi che ci stiamo sgolando nel tentativo in vano di far capire a molti tagliotti quali sono i reali obiettivi di questa situazione. Guardate questa foto. Che cosa vi dice questa foto? Questa qui è la mensa di Sant'Egidio a Roma e ovviamente non è l'unica mensa in questo stato. Perché dovete sapere che sono stati 4 milioni gli italiani che hanno chiesto aiuto per mangiare a Natale a Cavodanno. Lo rileva un'indagine della Coldiretti affermando che il numero delle persone in difficoltà è raddoppiato rispetto all'anno scorso. Ma c'è di più. C'è di più. Tra le categorie più deboli degli indigenti, il 21% è rappresentato da bambini di età inferiore ai 15 anni. Quasi il 9% da anziani sopra i 65 e il 3% sono i senza fissa dimora. Fra i nuovi poveri ci sono coloro che hanno perso il lavoro, i piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere per colpa di queste restrizioni, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state fermate dalle limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi. C'è un'altra notizia che fai a brividire, che è questa. Da lunedì i conti correnti non potranno più essere rosso. Sapete che, a parte questi 4 milioni di italiani che effettivamente sono già andati a chiedere l'elemosina, c'è un'altra bella fetta di persone che è completamente sull'astrico. Quindi se non è ancora arrivato al punto di andare a chiedere l'elemosina, poco ci manca. Ad esempio sono tutti coloro che con lo stipendio che prendono vanno a ricoprire tutti quei buffi, tutti quei debiti che fanno utilizzando il conto corrente, andando sotto, anche se questo dal punto di vista finanziario è sbagliatissimo, perché su quei debiti al di sotto del saldo zero vengono applicati degli interessi altissimi, è una cosa che non si dovrebbe fare, ovviamente. Ma non è questo il video per parlarne. Sappiate però che se i clienti non avranno sufficienti disponibilità liquide, gli addebiti automatici non saranno più consentiti. C'è il rischio quindi di un blocco dei pagamenti di utenze, stipendi e contributi previdenziali. Questo è il chiarimento che è stato fatto da Banca Italia. Amici, per quanto mi riguarda, io continuerò a ripetere quello che ormai ripetiamo da diversi mesi. E lo facciamo con un aforisma, così per essere chiari. Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere.